Mi compri la cos'è? RECKILO! RECKILO! Ah! Mi sono distrutto l'orecchio Buongiorno vlog family e bentornati in questo nuovo video mi hanno cacciato dalla vlog house e quindi sto qua in mezzo al nulla penso che la gente mi guarderà fa ammazza che è fallito comunque ragazzi oggi è un prank su Valerio quindi Valerio non ci può stare qua perché se no quindi dovrò fare la intro un'altra volta io però ragazzi tranquilli che il prossimo video ci darà Valerio mi dispiace un botto vi voglio un botto bene comunque vai che faremo Valerio? schifo! lo so ragazzi vergognoso penso che la gente ha paura di stare vicino a me perché sembro un pazzo vabbè ragazzi io direi di muoverci perché se no chiamano la polizia e mi buttano via wow ok la telecamera è storta perché mi sono nascosto in una foresta e non la potevo mettere in un posto decente allora spieghiamo il prank a Valerio iniziamo prank con Dani prank con Dani allora un mese fa ho buttato il telefono di Valerio in piscina clip cazzo fai tocca a te venite oh my god quindi questo l'ha fatto incavolare e quindi lui voleva la vendetta e quindi mi ha fatto questo clip ora voglio la mia vendetta perché io devo vincere le prank wars quindi ragazzi hashtag prank wars per altri video prank sono davvero un fallito mi sono nascosto in questa foresta perché ho paura delle persone ragazzi e quindi mi allontano dalle persone il più possibile ragazzi sono timido per favore aiutatemi se mi volete aiutare iscrivetevi e mettete like e ragazzi se non mettete like vengo a casa vostra prendo il vostro computer e lo butto nella mia piscina prank con Dani comunque ragazzi io so che devo fare devo chiamare Valerio dopo che ho chiamato Valerio gli devo dire oh bro porta il computer così possiamo editare insieme così lui porta il computer a casa mia e quando lui starà con gli amici in piscina o farà qualcosa io prendo il computer e va e piscina e lui se lo merita completamente quindi ragazzi proviamo a intropolarci nella block house che mi hanno cacciato così poi posso chiamare Valerio ok ragazzi siamo arrivati a casa allora ora suono e vediamo se mi fanno entrare posso entrare? no mi odiano six and a half hours later ok ragazzi ok l'ho rotto va bene ragazzi dopo tanto tanto tempo sono riuscito a convincere i miei mamma mia e ragazzi ho il telefono di mia madre perché il mio è rotto non ce la faccio più ho il nuovo telefono vabbè comunque con il telefono di mia madre dobbiamo chiamare Valerio e gli dobbiamo dire di portare il computer domani così li facciamo il prank ho fatto la cosa più schifosa al mondo oh bro oh ma te vieni domani no con la block team a che ora? eh no no l'avevo organizzato prima ti ricordi molto ah no no c'è 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 sì ma aspetta quindi a che ora a che ora vieni? eh prima di cazzo facciamo insieme vai perfetto mi sei bevuceto io devo ancora editare il video della casa abbandonata eh quindi ti porta il tuo computer così almeno fai come cazzo si chiama? ecco bro sì bravo eh fa la copertina mentre io edito e fatto ok bello bro a domani a domani ok ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo passato il test e ora dobbiamo solo aspettare domani oddio ragazzi comunque c'è Giuseppa oddio quanto mi sei mancata ragazzi Giuseppa è la ragazza di Montesi oh che vuoi? mamma mia zitta comunque ragazzi la vlog room è un po' distrutta ma non perché la distruggiamo noi i poster si staccano da soli e poi vanno per terra che ci possiamo fare? non siamo noi e cibi vabbè comunque ragazzi dobbiamo aspettare domani quindi ragazzi ci vediamo domani wow ragazzi allora e il giorno dopo ho gli occhiali perché non ho dormito sempre per colpa della vlog team ma è vero non è colpa nostra è tutta colpa vostra no se sto no perché non c'era dai gli altri si le storie di Dani fanno schifo come Dani o peggio quindi ragazzi Dani odiato nei commenti no non è vero ti voglio bene Nesto non mi vuole bene te lo giuro ti voglio bene un bacino tutti hanno vomitato tutti vorrebbero allora ragazzi ecco il macbook di Valerio uh cioè fa paura questa cosa perché c'è e il macbook quanto costa bro? non lo so questo costa tipo 1000 euro vorrete più vorrete più e io lo so per buttare in piscina però veramente non lo so per buttare in piscina lui pensa che lo so per buttare in piscina ora io le apre questo e si può vedere solamente la custodia e quindi lui pensa e tipo quando butto la custodia in piscina che ho buttato tutto il computer però per fortuna non sarà così come per fortuna buttalo veramente comunque non lo so secondo me si vede che non c'è niente dentro è un po' troppo flaccido quindi si c'è di mettere qualcosa ecco mettiamo tipo un indietro che è sta cosa? qui è tipo oddio allora ragazzi prendo un mio vecchio quaderno degli elementari per poi mettere qua dentro così non sembra così flaccido perché non sembra che c'è un computer dentro quindi dai perfetto ragazzi non è flaccido ma tutto bene quindi andiamo ragazzi dai wow ti è rotto mi ha fatto prendere in colpa è un prank king of frank no ci scrivo a fare i prank non è vero io ti voglio bene lo dico solo perché c'è la telecamera in mano verissimo oh ma oh fei ma chi è quello ma chi è quel figo lì oh ma chi è quel figo guarda io mi rovino tutto c'è una bella foto passo prima io passo prima io faccio vinta di vloggare oddio guardate qui che bel sole e il non produttivo che sta vloggando io sto vloggando perché sono produttivo ma che bevi l'acqua è quella della piscina famete ma danni sarà passato o sto ancora qui ma io non me ne sono accorto danni danni ok no danni è andato perfetto allora intanto c'è un vento assurdo vabbè loro si stanno a divertire perché loro non sono prodotti come noi e starà tipo qui ah eccolo ciao bro che pati sono le jacuzzi io vado su con il macbook sopra con il macbook vado qua sopra e faccio valerio guarda qua e lui lo scopre subito perché ovviamente è suo che cazzo però ho appena capito qualcosa questa cosa non affonda ah dico a jacopo se ci registra dico a jacopo se ci registra chiamai jacopo via un attimo via mi devi registrare una clip via vieni te vale manco ciao cucciolo andiamo devi registrare appena clip prank con te allora io ti butto in piscina quindi dico a tutti gli altri andiamo in piscina tutti tutti in piscina basta e agli altri gli dico andiamo in piscina no facciamolo tutti insieme facciamo noi due insieme tutti tutti in piscina te lo butto e lo lancio a te ti faccio lo prendo faccio tipo lo prendo io al volo male lo prendo e poi oh tu devi andare a arriccare la reazione di valerio vai vai ci sto va bene ragazzi andate tutti a seguire valentino su instagram qui sotto qua sotto qua sotto qui sotto mettilo qui da valerio siamo morti valesco valesco passa passa indubbina cos'è ah yeah è il break world scoglione prendilo basta 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 mi ha negato mi ha negato oh regà ci è cascato mi ha negato ma c'è un libro c'è un quaderno dell'elementare no poverino apri vogliate che c'è scritto niente studiava tanto ma però studiavi tanto regà hai imparato a scrivere ieri daniel ma hai comunque rovinato la cover del computer no vette la ricompro allora non mette la letta vai asanq ciao asanq ciao asanq ciao asanq ciao asanq mi ha salutato mi ha salutato regà mi ha salutato a me ti odia ti odia non mi ha detto io di valentino no dai asanq ragazzi fate lo screenshot e postatelo sul solito di asanq senza di lui la broadcast sarebbe una merda quindi dovremmo fare in favore cioè regaliamo qualche solito ma proprio è vero se un giorno gli regaliamo tipo 500 euro quindi se questo video arriva a 20 mila 25 mila no 500 euro sono una fracca 20 mila like e regaliamo 500 euro ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ripeto arriviamo a però te la hai d'archiazzo lo posso dirlo che sta qua ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ripeto arriviamo a 20 mila like e regaleremo 500 euro da asanq se volete altri video del genere iscrivetevi al canale bella asanq è il mio migliore amico